Oggi, 9 luglio, è uscito su Besatsu Shonen Magazine il capitolo 130 dell'attacco dei giganti. Anche se, come avrete notato dai vari leak sul web, le scanner erano già attrapelate da un paio di giorni in coreano, ovviamente in questo breve riassunto di discussione ci saranno spoiler del suddetto capitolo, quindi se non siete impari continuate a vostro rischio e pericolo. Il capitolo si apre con questa scena molto cruda dove Angie spiega come ormai sia impossibile salvare il distretto di Liberio con le facce sconvolte di Gabi, Reinar, Annie e Pic sullo sfondo. Annie, appunto, una volta presa questa notizia, decide di ritirarsi in quanto il suo unico scopo era quello di cercare di salvare il suo distretto, ma soprattutto non ha più voglia di lottare né contro Eren né contro Mikasa e compagnia in caso questi volessero impedirle di uccidere Eren. Tra l'altro questo comportamento è molto concorde con la personalità di Annie che già dalla terza stagione vedevamo tentennare nel lottare contro altri umani, basti pensare alla famosissima scena di Marco. Seguono poi dei lunghi flashback che ci accompagnano per un bel po' di pagina, in particolare c'è una scena molto importante dove Eren spiega a Historia come vogliano trasformarla in un gigante e approfittarne per farle mangiare zicchi in quel momento preciso visto che si trovava sull'isola. Tuttavia nonostante Historia sia d'accordo ad accettare questa cosa, Eren non lo è e le spiega quindi il suo piano di sterminare tutta l'umanità all'esterno delle mura e creare una nuova civiltà priva di odio. E addirittura quando Historia gli dice che questo è un peso troppo grande da tenere sulla sua coscienza, Eren le propone anche di cancellare o modificare comunque i suoi ricordi col potere del gigante fondatore e alla fine di questo flashback della discussione fra i due Eren arriva addirittura ad accusare Historia di essere la peggior ragazza del mondo proprio perchè l'aveva salvato in passato. Abbiamo poi un flashback questa volta a Liberio di una conversazione fra Eren e Zeke dove quest'ultimo spiega a Eren il motivo per il quale secondo lui Mikasa fosse così attaccata e affezionata a lui, infatti Eren aveva il dubbio che questo fosse a causa della sua natura di Hakeman ma secondo Zeke Mikasa si comporta così semplicemente perchè le piace molto Eren. Tra l'altro subito dopo abbiamo un altro flashback molto molto importante dove Eren chiede Historia cosa ne penserebbe di vedere Eren come padre nonostante gli rimangano solo quattro anni di vita. Questo particolare pezzo ha fatto impazzire il web perchè adesso sono molti quelli che hanno teorizzato il fatto che il figlio che tiene in Granboy Storia possa essere effettivamente di Eren, il che ha un certo senso pensando a questa scena, però dall'altra parte c'è il fatto che a Eren rimangano solo quattro anni di vita, il che allontana molti da questa teoria. E qua verso la fine il capitolo prende una piega spettacolare, torniamo infatti nel presente con delle navi armate dai migliori cannoni del mondo pronte a cercare di fermare l'avanzata dei colossali che ora stanno nuotando nell'oceano verso la terra. Tuttavia come era abbastanza prevedibile i giganti distruggono le navi appunto e continuano la loro avanzata verso terra come vediamo in quest'altra tavola assurda. Nulla da dire ai disegni di questo capitolo che sono davvero incredibili, le tavole dove vengono lanciati i missili contro i colossali sono qualcosa di assurdo. E come se questo non fosse abbastanza spettacolare vediamo poi in un'altra tavola il gigante di Eren che avanza dietro i colossali, muovendosi non abbiamo ancora capito come vista la sua anatomia molto molto particolare. Abbiamo poi un altro flashback molto interessante del gigante di Dina che mangia appunto la madre di Eren e questo crea una sorta di parallelismo fra le due situazioni, mostra come la paura provata anni fa dal popolo di Paradis sia la stessa che prova adesso l'umanità fuori dalle mura. E qua si conclude questo fantastico capitolo con una tavola dei colossali che calpestano i palazzi seguiti dal gigante di Eren, del quale, grazie a questa inquadratura possiamo notare le incredibili dimensioni. Che ne pensate voi di questo capitolo in particolare del design del gigante colossale se così lo possiamo chiamare di Eren? Comunque per risolvere i nostri interrogativi dovremmo aspettare purtroppo un altro mese per il nuovo capitolo e per ammazzare l'attesa io vi lascio come sempre i video che vi verranno proposti nell'hand card. In particolare vi consiglio un video che ho fatto da poco dove parlo della quarta stagione e intervisto il doppiatore di Zeke Alessandro Murata. Vi ricordo poi di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto e di iscrivervi al canale per scoprirne tanti altri.